Musica Allora, adesso vogliamo parlare, come vi ho detto prima, ve l'ho anticipato, di anziani e sport. Esercizio fisico, quando si parla di questo, medico dello sport, Pino Capua, buongiorno, grazie di essere qui con noi. E poi abbiamo collegato Tiziano Pesce, che è WISP, pensate, è proprio l'Unione Sport per Tutti. Buongiorno Tiziano, grazie di essere con noi a TG2 Italia Europa. L'associazione, abbiamo detto, Unione Sport per Tutti, che conta tantissimi iscritti, e questo ce lo confermerà Pesce, però serve non soltanto a fare delle attività motorie, ma anche proprio di socializzazione. È così Pesce? È proprio così, Marzia, è proprio così per l'UISP, un'associazione di promozione sociale e promozione sportiva, che, diciamo, da 75 anni si impegna quotidianamente per promuovere proprio il diritto allo sport, per ogni persona ha il diritto a muoversi, a prescindere dall'età, a prescindere dalle proprie abilità. Io credo che sia importante sottolineare, proprio in questo momento storico, come la Costituzione abbia riconosciuto recentemente proprio il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva, per un'associazione come la nostra, che dopo il periodo della pandemia ritorna ad associare oltre un milione di cittadini e di cittadini in Italia a promuovere, diciamo, stili di vita attivi, e quindi corsi di ginnastica dolce, gruppi di cammino per gli adulti e gli anziani, ma attività fisiche adattate significa, ecco, impegnarsi per un invecchiamento attivo, per le persone, con sempre un occhio di riguardo per gli adulti, gli anziani soli, in situazioni anche di povertà relazionale. Bisogna per... No, prego, adesso concludiamo perché la frase, ovviamente, perché volevo tornare, mi ha dato appunto uno spunto per il dottor Pino Capua, perché abbiamo detto, no? Loro appunto mettono a disposizione proprio lo sport per tutti, camminare, quindi non significa fare agonismo, no? Quando si è adulti, dottor Pino Capua, ecco, questo mi piacerebbe che passasse come messaggio, movimento fisico non significa esagerare, giusto? Ci sono proprio delle vere sfere mediche che possono essere sanate con lo sport e con l'attività fisica, quindi è proprio un meccanismo, proprio la Costituzione ha deciso, abbiamo combattuto tanto, che lo sport è una cosa importante per la nostra vita, e quindi questo è un messaggio che noi lanciamo da sempre, da tanti anni, ma che deve entrare proprio nella coscienza civile di tutti noi. Ripeto, le endorfine sono le molecole del benessere, e le endorfine nascono dalla gioia di fare attività fisica e dalla gioia di fare aggregazione, Marzia. Anche questo, parlavamo di persone sole, Esatto, proprio con Tiziano, pesce, certo. L'aggregazione è uno di quei contesti dove ci si ritrova facendo cose divertenti. Per esempio, ecco, a proposito di aggregazione, di cose divertenti, con Wisp si balla anche, giusto? Cioè gli anziani si trovano insieme con la musica, ballano, quindi ecco, aggregazione, socialità, socializzazione. Tiziano? Assolutamente, accanto proprio all'attività fisica, diciamo, specifica, l'attività sportiva per le persone più in forma, c'è proprio l'elemento dell'aggregazione, l'elemento della socializzazione. Ecco che accanto alle discipline, diciamo, alle attività più tradizionali, la ginnastica dolce, i gruppi di cammino, ci sono tante attività, per esempio, di nuoto adattato, il gioco delle bocce, i balli e i giochi tradizionali popolari. L'importante, ecco, è sempre mettere a disposizione delle persone, in questo caso dei nostri adulti, dei nostri anziani, istruttori, insegnanti che siano formati, preparati, ed è assolutamente fondamentale il rapporto tra l'associazionismo di promozione sportiva e sociale con il mondo ovviamente della medicina, della sanità, fondamentale il rapporto con la medicina dello sport, il professor Capua è un riferimento di carattere non solo nazionale ma anche internazionale, la medicina dello sport italiana ci è invidiata da tutto il mondo, è il rapporto anche fondamentale con i medici di medicina generale. Grazie anche al nostro altro ospite, quindi a Tiziano Pesce, Wisp, tutto per gli anziani, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a tutti.